A Milano si miete il grano che il comune ha posto a coltivazione nelle aree pubbliche, circa 90 ettari sui complessivi 150. Il personale dirigente, assistente ed operaio è quello del servizio giardini, che per l'occasione ha trasformato la sua attività da floreale ad agricola. Si miete anche in Piazza della Scala. E Piazza del Duomo va prestandosi alla prossima trebbiatura del grano cittadino.